Ciao amici, ben ritrovati, agendiamo avanti con la quinta parte, il quinto livello di Tenciusti e Alta Assassin, salviamo questo è un livello molto semplice, dovremmo uccidere Kataoka che sarebbe un trafficante di droga, di commerciante di robe varie, truffe, eccetera quindi dovremmo affrontare prima la sua guardia del corpo, poi dovremmo affrontare lui Kataoka ha la fortuna di essere il genero di Sekhia, uno dei più fidati consiglieri di Lorgona, egli conosce la verità e potrebbe farlo arrestare, ma non vuole infangare l'onore di Sekhia, comprendendo il dilemma del suo signore, Sekhia decide di risolvere la faccenda da e ti ordina pertanto di eliminare il corrotto ministro delle finanze adesso partirà subito una piccola introduzione prima prendiamo gli oggetti troviamo solo questo bene eliminare il ministro corrotto, trova prima la guardia del corpo, attento agli arcieri nascosti che non farò mai del mal di innocenti camministro Cataoka prima che dovremmo sconfiggere solo con il ciccionazzoli cos'è bisemia? è più del solito non possiamo farcela senza di te il denaro sono un segno della nostra riconoscenza tu sai come vai il mondo che posso fare per te oggi? abbiamo fatto un'offerta per un appalto se tu potessi lascia fare a me ma ricorda cosa è successo ai Cigoia usa estrema cautela bene possiamo partire ci troveremo qua fuori dal villaggio e dovremmo entrare nel villaggio qua possiamo subito tagliare la testa proseguiamo qua ce ne dovrebbe essere un'altra questa non si gira questa guardia resta sempre così se non sbaglio proviamo adesso ad osservarla per un po' infatti vedete resta sempre così non si gira forse adesso si è girata proviamo niente niente dobbiamo affrontarla così va bene affrontiamo non sa anche girare gli spazi ci ha fatto un grosso favore ci dispone del tempo in posto morto qua dobbiamo scavarcare vi consiglio di non entrare dall'entrata principale dove avete visto quel ponticino entriamo da qua qua ci sarà un'altra guardia possiamo anche tenerla dietro ci giuriamo dai facciamola fuori facciamogli il riso vediamo se lo mangio non lo mangio questo riso è avvelenato quindi se la voglia lo dovesse mangiare non ci dovrebbe essere male non ci dovrebbe essere bene dai facciamo avvelenato bene dai facciamo avvelenato e non è arrivato in alto da questa morte spero che ci sono molto anche di questo non è arrivato in alto non è arrivato in alto in alto che vuole ? io non sono un po' di evitare in alto in alto non è arrivato in alto e cosa in alto non è arrivato in alto no un po' vediamo se c'è qualcosa di solito mettono sono l'innocente cosa di tre parili non c'è niente andiamo avanti noi dovremmo raggiungere questa specie di di pozzo dove ci sarà la guardia del corpo dov'è il ministro Gadot? tu sei il ninja di Locota capiglia pagione ho l'ordine di ucciderti non c'è niente no come guarda la guarda sono malissima toglie forse un po' di tempo perciò non c'è niente no si l'uomo l'uomo infatti vedete lui vi chiederà di risparmiarlo a colpo di scena l'ha ucciso il suo maestro ci ha risparmiato la fatica va bene possiamo andare avanti quindi adesso dovremmo trovare kataoka io vi consiglio di seguire il percorso dove ho lanciato la freccia cerchiamo di farci vedere cerchiamo di girare sempre sui tetti quando è possibile in queste case ci dovrebbero essere anche degli oggetti cercherò di prenderli per farli vedere vediamo se c'è qualcuno lì c'è qualcuno girati, girati, girati no girati, girati no non c'ho visto là dai cripe dai spargisci lasce and aspettate dai infatti sotto lo dici a qualcun'altro guarda, 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 guarda quello che ti meriti, c'è qualcosa qua, no, qua non c'è nulla, ci dovrebbe essere qualcosa da qualche parte, se no ricordo male, ci dovrebbe essere delle bombe qualcosa, vediamo, qua ci siamo già entrati, non c'è niente, qua c'è un nemico, togliamo la gola, via, non c'è niente, qua ci dovrebbero essere delle bombe, la memoria non mi inganna, prendiamo la bomba, il fumogeno, e adesso possiamo andare a trovare Katolka, c'è un nemico, ho lasciato l'impace, ci ho visto, ma non lascio perdere, perché sono qua, in un video di 40 minuti, andiamo avanti, dai, subiamo sempre questa strada, dovremmo entrare in questo, in questo edificio, vedete, vado da dietro, veder se riesco ad entrare, no, devo andare davanti, va bene, entriamo davanti, e adesso ci sarà Katolka, con finale ha soffreso, perché non l'avesse mai giocato, non avrei mai pensato che Goda potesse scoprirmi, ucciditi e dimostra che ti è rimasto un po' d'olore, ti aiuterò, sì, grazie, via Lord Goda come sono morto, con Rikimaru, se giocate con Ayame, lo dovrete uccidere, quindi questo è il livello alternativo, bella tagliata di K, questo, adesso dirà, informerò Lord Goda per la tua onorevole, sì, questo era il quinto livello, ci vediamo nel prossimo video, ciao amici!